Come ti trovi? Benissimo, stupenda, magnifica, leggerissima, sono una professionista delle camicie, siete in stileria, vedo, e sto stirando con birba, super, queste sono le camicie stirate con birba, eccole qua, veloce quindi? Velocissima, super veloce, e il risultato? Il risultato è eccellente al massimo, benissimo, eccellente al massimo, i miei clienti sono soddisfattissimi e fatica metà della metà della metà. Benissimo, grazie, prego, grazie a birba.